Salve e ben ritrovati con l'informazione del Tg Blu. In apertura all'amministrativa andiamo al Comune di Foggia perché i civici per la Capitamata battono cassa. Il movimento infatti chiede rappresentatività nell'esecutivo e i colloqui con il sindaco sarebbero già a buon punto. I nostri microfono ci spiega tutto il consigliere Antonio Vigiano. Lo chiamano tagliando di giunta, un modo dolce di dire l'impasto, ma il risultato è esattamente quello. I civici per la Capitamata battono cassa. Il movimento di maggioranza conta quattro consiglieri in Consiglio Comunale ma nessun assessore. Ed è proprio su questo punto che si batte in questi giorni con il sindaco. Bisogna trovare spazio, ma per farlo occorre che qualcuno vada a casa. È in atto un tagliando di giunta dove chiaramente noi di Civica per la Capitamata rivendichiamo un posto. Ritengo che a questo punto sia abbastanza ibrida un po' la posizione di Civica per la Capitamata. Una forza di maggioranza con quattro consiglieri comunali non rappresentata nell'esecutivo. Ritengo che non sia una cosa buona per il nostro gruppo e per l'intera maggioranza. Quindi rivendichiamo comunque un posto nell'esecutivo. Non deve essere solamente una successione di persone in qualche posto. Ci deve essere l'impegno di rilanciare questa amministrazione per un fine programma un po' più programmatico e meno legato alle emergenze della città. In questi giorni avete già incontrato il sindaco Landella per mettere un po' sul tavolo quelle che sono le vostre richieste? Sì, abbiamo incontrato il sindaco come abbiamo incontrato anche le altre forze politiche in quanto non vogliamo che si destabilizzi comunque l'attuale maggioranza. Abbiamo fatto le nostre richieste e non penso che siano inaccoglibili e quindi ritengo che verranno accolte. E la richiesta da accogliere si mormora sia quella che riguarda l'assessorato e le politiche sociali che fa capo Derminia Roberto. E adesso parliamo del ghetto cosiddetto dei Bulgari perché una interpellanza al Consiglio Comunale di Foggia e al Prefetto è stata presentata questa mattina dal capogruppo PD in Consiglio Comunale Augusto Marasco per chiedere delucidazioni sullo sgombero del ghetto che come sapete è stato posticipato al 15 settembre. Capire se, come ipotizzano alcuni organi di stampa, ci sia stata veramente una trattativa tra il Comune di Foggia e i caporali del ghetto cosiddetto dei Bulgari per posticipare lo sgombero al 15 settembre. E il contenuto e l'interpellanza che Augusto Marasco, capogruppo PD in Consiglio Comunale ha presentato oggi anche al Prefetto di Foggia. Noi chiediamo se la notizia diffusa dagli organi di stampa risponde a verità e ove mai ci fosse la veridicità di questa notizia, chi per conto dell'amministrazione e in base a quale delega e a quale potere discrezionale ha potuto sottoscrivere questo accordo. Tant'è che chiediamo anche l'esibizione di eventuali atti ufficiali. Mi spiego, se lo sgombero è stato rinviato al 15 settembre, quali sono i documenti che testimoniano che entro il 15 settembre si provvederà allo sgombero? Ci sono poi altre questioni altrettanto inquietanti, così come questa di questa eventuale trattativa con i capò bulgari o italiani. Questo lo dovrà chiarire il Sindaco, nel senso che ove mai non fosse così dovrà smentire la notizia riportata da questi organi di stampa. E poi c'è l'aspetto più delicato della questione che in questo presunto accordo si parla del rimpatrio dei minori che avverrà nel giro delle prossime settimane. Il problema che era stato denunciato è dall'Unicef e dalla Camera minorile di Capitanata, cioè questi minori hanno diritto a crescere nei loro nuclei familiari. Andiamo a San Giovanni Rotondo dove nel corso di un temporale ieri pomeriggio un fulmine ha colpito la grande croce in pietra alta 40 metri della chiesa di San Pio a San Giovanni Rotondo. Per prudenza la zona sottostante è stata recintata e interdetta al transito. Purtroppo finora non è stato possibile effettuare una verifica puntuale dei danni per il forte vento che impedisce al braccio morbide della piattaforma di raggiungere la sommità della croce in condizioni di sicurezza. È drammatico incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 44 che collega Chieuti a Serra Capriola. Nel violento impatto tra una Fiat Panda e una Mercedes una persona è morte e altre tre sono rimaste ferite. Nello scontro violentissimo ha perso la vita un uomo di 83 anni di Serra Capriola che viaggiava a bordo dell'Utilitaria. Ferite le altre tre persone a bordo della Mercedes le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Cronaca no alla scarcerazione dei tre Lanza coinvolti in un'operazione della Polizia di Foggia su presunte estorsioni ai danni di imprenditori del posto. L'hanno deciso i giudici del Tribunale di Foggia davanti ai quali si sta svolgendo il processo. I giudici del Tribunale di Foggia hanno respinto le richieste di scarcerazione per Vito Bruno Lanza di 64 anni, per il figlio Leonardo Lanza di 38 e per Mario Lanza di 36 anni. I tre, lo ricordiamo, sono stati arrestati dall'agente della Polizia nell'aprile dello scorso anno nell'ambito dell'operazione Rodolfo, accusati di estorsione ai danni di imprenditori e società operanti dall'indotto legato alla produzione e alla trasformazione alimentare di prodotti dell'agricoltura. In particolare Vito Lanza e Mario Lanza resteranno detenuti mentre Leonardo Lanza resteranno ai domiciliari. Vito Bruno Lanza e il figlio Leonardo sono ritenuti esponenti del clan Moretti-Pellegrino, mentre l'omonimo Mario Lanza è ritenuto vicino a Francavilla. L'oggetto dell'inchiesta fu l'assoggettamento estorsivo posto in essere con metodo mafioso in forma continuata e diversificata ai danni di imprenditori e società operanti nell'indotto di un settore altamente strategico per la nostra economia, quale quello legato alla produzione e alla trasformazione alimentare dei prodotti dell'agricoltura. Le pretese estorsive hanno riguardato non solo la forzata allargizione di somme di denaro, con cadenza sistematica mensile in favore dei principali esponenti delle due batterie, ma anche l'assunzione fittizia come lavoratori dipendenti delle aziende delle vittime di soggetti indicati dalle compagini malavitose, divenuti quindi beneficiari dei salari mensili senza fornire alcuna controprestazione lavorativa. L'assoggettamento delle vittime risulta ulteriormente documentato dal fatto che la compagine imprenditoriale non si è limitata a pagare tangenti, ma era solita secondare passivamente anche le richieste di assunzioni lavorative effettive avanzate dagli esponenti delle due batterie. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di saldi, partenza a rilento però per i saldi stivi, infatti i foggiani sembrano aver preferito le spiagge nonostante il tempo incerto del weekend appena trascorso, i negozi del Centrono restano vuoti anche questa mattina e noi siamo andati a curiosare. Com'è andato quindi questo primo weekend di saldi? Diciamo come weekend il sabato è andato discretamente bene, era cominciato male però poi è andato discretamente bene. Ieri non siamo stati aperti quindi insomma è questo il secondo giorno, per adesso è ancora lento. Ma soffre il problema dei centri commerciali? Quello è un problema non solo dei saldi, è un problema di tutto l'anno. Ci sono state un po' di polemiche perché alcuni avevano cominciato in anticipo a mettere degli sconti. Sì, questo sì è vero perché la stagione è stata frenata da tante circostanze. Poi c'è il problema, diciamo, del Granda Puglia, dei centri commerciali? Sì, loro diciamo in questo periodo la fanno da padrona perché nel weekend, loro la domenica aperti sono stati presi d'assalto e vanno nei centri commerciali per cui penalizza un po' la città, però nella città ci sono dei prodotti che non si trovano nei centri commerciali. Partenza a rilento per i saldi estivi. I foggiani sembrano aver preferito le spiagge nonostante il tempo incerto del weekend. I negozi del centro restano semivuoti mentre non può dirsi lo stesso dei centri commerciali complice all'apertura domenicale. I negozianti lamentano anche la concorrenza sleale di chi aveva iniziato a praticare sconti già con molti giorni d'anticipo. Poche le persone in giro anche questa mattina. Salve, si trova qualche occasione? Qualche occasione sì, al 30% però. Non è un saldo pienissimo, comunque ci accontentiamo per il momento. Per il momento guardiamo solamente, poi magari facciamo acquisti un po' più in là. Acquisti con i saldi? Si trova qualche occasione? Non lo so, non è che poi si riesce a fare il paragone tra quelli che erano i prezzi di prima e quelli di dopo. Tu trovi il bigliettino e ti auguri che ci sia lo scondo veramente. Buongiorno, ho fatto acquisti con questi saldi? No, sì, sì, avevo fatto un po' di acquisti. Si trovano occasioni? Sì, buone. Satisfatta? Parliamo di sanità, i nuovi scenari medico-giuridici della responsabilità sanitaria dopo la legge Gelli Bianco, è stato il tema del convegno organizzato dall'Associazione Diritto e Salute articolo 32. Allora di come cambia lo scenario sanitario ci parlano Giovanni Pio De Giovanni, presidente dell'Associazione e Andrea Denino, risk manager del gruppo Salatto. Tornano i convegni dell'Associazione Diritto e Salute articolo 32 e questa sera in particolare si parla degli aspetti giuridici della riforma sanitaria dopo l'introduzione della legge Gelli Bianco. Abbiamo come obiettivo quest'oggi quello di approfondire una tematica molto ampia che è quella della responsabilità professionale in ambito sanitario e con riferimento all'ultima novella legislativa, la cosiddetta legge Gelli, ad una norma molto articolata ma che in realtà non coglie nel segno. Una norma che non fa gli interessi degli utenti della sanità, non fa gli interessi dei medici ma evidentemente punta a tutelare gli interessi di qualche altra categoria. Si sta scaricando un po' le responsabilità dell'abilità professionale su quelle che sono le strutture ospitanti del professionista sia che sia esso sia dipendente sia che sia ovviamente lavoratore a partita IVA. Con l'obbligatorietà per noi strutture private di farci carico di quelle che sono le polizie assicurative sia per noi sia per loro. Il decreto sostanzialmente è un decreto che si tutela tantissimo dal punto di vista del diritto alla salute, quindi dei pazienti, sacro santo diritto costituzionalmente garantito ma si sta sottovalutando che si sta andando verso una sanità che dovrà farsi i conti tasca sostanzialmente. Considerato che sicuramente lo scenario prossimo è il sistema statunitense, quindi che si andrà a mia morendo il sistema sanitario, inevitabilmente si andrà sicuramente nel mondo privato delle piene assicurazioni dove se si è assicurato va lì qualcuno altrimenti non conti assolutamente nulla. Inevitabilmente questo scenario di incertezza assicurativa con annessi costi si rivelerà assolutamente nei confronti dei cittadini. Andiamo a Cerignola dove questo pomeriggio si terrà il Consiglio Comunale, 12 punti all'ora nel giorno tra cui la zona ZTL e il caso Puzza. E' stato convocato questo pomeriggio il Consiglio Comunale a Cerignola, 12 punti all'ordine del giorno, due interrogazioni solo relative alla tanto discussa ZTL. Infatti la zona a traffico limitato nonostante mesi di largo anticipo ad oggi non riesce a trovare calme acque all'interno di Palazzo di Città, partita in fase sperimentale a marzo con una durata di un mese poi posticipata dalle numerose richieste degli abitanti e commercianti della zona. A fine giugno si è chiuso il capitolo sperimentale ma gli abitanti non ci stanno. I cittadini hanno bisogno di più tempo per digerire e metabolizzare i cambiamenti strutturali apportati alla viabilità. Così dichiara il Consigliere Comunale di Federazione Civica Vincenzo Specchio, il quale chiede, lo farà nuovamente nel Consiglio odierno, di prorogare la fase sperimentale ed apportare altre modifiche relative ad orari e nuovi sensi di marcia. Sulla questione ZTL è anche il Partito Democratico a chiedere maggiori chiarimenti come la mancata esecuzione di alcune modifiche decise lo scorso aprile. A tal proposito il dirigente della Polizia Municipale, Franco Delvino, starebbe preparando una relazione motivando il ritardo. Altri accapi riguardano la contabilità, il distretto urbano del commercio, problema sicurezza e ancora il caso Puzza. Infatti oltre a discuterne in Consiglio Comunale il PD riscende in campo questa sera con una mobilitazione cittadina per chiedere maggiori delucidazioni sulla questione ambientale che negli ultimi tempi sta interessando il Comune Ofantino. Andiamo a Sansevero perché la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo di adeguamento alle norme antincendio del Teatro Comunale Verdi che prevede una spesa che supera i 300 mila euro. A seguito dei pareri tecnici è stato chiesto di seguire i lavori in via d'urgenza. Nel giro di pochi mesi il nostro Teatro Verdi ha dichiarato il sindaco di Sansevero Francesco Miglio ritornerà ad ospitare tutti gli eventi culturali. I lavori ha proseguito Miglio porteranno via una somma importante del bilancio ma le disposizioni vigenti vanno rispettate. E sarà presentato giovedì alle 20 nell'area industriale di Cerignola il progetto di recupero e restauro dell'opera Giuseppe Di Vittorio e la condizione del mezzogiorno. Il murale di Di Vittorio smantellato negli anni 80 per via di lavori di ristrutturazione di Piazza della Repubblica sarà riconsegnato alla città e riposizionato presso Piazza della Libertà. L'opera è a cura degli artisti Ettore De Concilis e Rocco Falciano. Era questa l'ultima notizia per questa edizione. Vi ricordo che tutti gli aggiornamenti, no anche i nostri servizi, li potrete seguire sul sito teleblu.tv, sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra pagina di YouTube. È davvero tutto. Grazie di averci seguito. Buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.